ehi tu non lo sapevi no lo sapevi non lo sapevi perché non me l'hai detto lo sapevi no non lo sapevi lo sapevi no non lo sapevi a me lo potevi dire lo sapevo non lo sapevi i miei cani se le sanno le cose non te le dicono e se non ne sanno non te le dicono lo stesso è vero è che ciò ragione non lo sapevi no ma allora perché non l'hai detto e se lo sapevi perché non l'è detto me lo potevi dire no che non lo sapevi e se lo sapevi perché non me l'hai detto che lo sapevi ma se sapevi di non saperlo perché non l'hai detto e perché non è detto di non saperlo di saperlo perché non l'hai detto e dai su non fare così adesso dai non è niente dimmelo ti decidi a dirmelo lo sapevo non lo sapevi e che sapevi dai su non fare così dai ho capito me lo direi dopo dai me lo direi dopo ho capito si è che mi fa gli occhi dolci è vero e tu e tu lo sapevi o non lo sapevi anche tu lo sapevi o non lo sapevi e dai su guardami dimmi lo sapevi o non lo sapevi è come l'altro lo sapevo non lo sapevi tu non lo sapevi non te l'hanno detto non l'hai voluto sapere che che non sapevi che sapevi dai fammi sapere lo sapevi di sapere e lo sapevi di sapere non lo sapevi non lo sapevi neanche tu egli all'oscuro che è successo e dai dimmelo non detenere per te le cose c'è qualche pulce che ti morde che che sapevi che che non sapevi ma lo sapevi di sapere no pare che non gli frega niente neanche a lui ma dai su me lo dici che sapevi sapevi di non sapere non sapevi sapere che che succede beh dai bello bella faccia che c'hai bello e lo sapevi di sapere o sapevi di non sapere che il sapere ciò che si sa o ciò che non si sa e dai su vediamo se costo sole e viene bene l'inquadratura e tu lo sapevi sapevi di saperlo non sapevi non sapevi di saperlo e dai beh che lo sapevi dimmi dai oggi nessuno dei tre cani dovrei vedere gli altri e proprio se ne va oggi nessuno dei tre cani vuole parlare perché di solito gli faccio domande e parlano ma davanti al cellulare dicono ma come tu parli sempre al cellulare con il nokia asha 302 di bassa risoluzione fascia media bassa e allora noi non parliamo con te se stai col cellulare in mano perché tu parli ad altri vabbè bella caneta lo sapevi di sapere o non sapevi perché io gli faccio questi giochi di parole loro rispondono wow wow però adesso non sono ispirati dovrei domandare agli altri cani ma non mi va vedo che sono stanchi siccome sta venendo la sera sono stanchi fanno storie vero vabbè allora qui il vostro capitan santenchan se vi piacciono i cani lasciate un commentario a questo video date gli like e soprattutto condividetelo io guardando i vostri commentari che lascerete a questo video ea tutti gli altri miei video e vedendo i like andrò nei vostri canali ea seconda di quanti miei video avete dato like commentato e lasciato il commentario io farò altrettanto con i video dei vostri canali quindi se commentate date like e magari condividete 10 20 100 miei video perché ne ho quasi 900 io cercherò di fare lo stesso con voi magari non in un giorno perché se siete troppi a farlo non sarà possibile ma se voi commentate date like a 10 miei video io farò lo stesso con voi se vi iscrivete al mio canale io iscrivo al vostro e quindi quante più persone daranno a quanti più video possibili miei like o anche dislike se il video non vi piace e lo commenterete allora io andrò nei vostri canali darò like ai vostri video e commenterò occhio per occhio dente per dente youtuber per youtube per iscrizione per iscrizione like per like commentario per commentario poi si dovrebbe superare almeno il minuto dei virus perché altrimenti a volte youtube non te lo conteggia quindi io apro molte finestre dell'esploratore del brown suel in modo da far superare il minuto di di us per video che guardo che commento che ti do il like fate anche voi lo stesso se potrete e quindi commentate questo video commentate ogni mio video e dategli like o dislike in questo modo io so che voi avete visto i miei video ve li commento video like più miei video commentate gli date like o dislike più io farò così con i vostri video grazie di aver visto questo video spero che cani vi piacciano e ho caricato molti video sui miei cani nel mio canale di youtube andatevi a guardare perché sono veramente molto divertenti qui il vostro capitano sante già un saluto a tutte e tutti grazie di seguirmi oggi ho fatto questo pomeriggio una live spero che vi piaccia ciao